Io sono Latifa, sono arrivata qui tre anni fa e non avevo mai fatto sport. Da dove vengo io non è una cosa tanto comune per le donne. Si pensa che il corpo della donna diventi poco attraente e poi sia difficile, ad esempio, trovare un marito. Per questo ci ho messo tanto ad avvicinarmi ad un centro sportivo. Non mi piaceva l'idea di deformare il mio corpo, volevo rimanere morbida. Però vedevo altre ragazze che facevano sport e sembravano divertirsi. Sono entrata in un centro dove va una ragazza che conosco ed ho parlato con un'operatrice. All'inizio mi vergognavo un po' a parlare del mio problema, mi sembrava una cosa frivola, ma lei mi ha fatto sentire a mio agio e così mi sono aperta. Mi ha spiegato che non c'è un solo modo di fare sport e che possiamo decidere noi, insieme all'allenatore, quanto vogliamo spingere in base ai risultati che vogliamo ottenere. Ormai è un anno che faccio ginnastica dolce insieme ad un gruppo di donne. Ho fatto nuove amicizie, mi sento bene e il mio corpo è più tonico, ma non è cambiato come avevo paura che facesse. Ormai è un anno che faccio ginnastica dolce insieme ad un gruppo di donne.